L'uso appropriato, faccio l'esempio delle mascherine. Le mascherine alla persona sana non servono a niente. Si è convenuto in un coordinamento, in una centralizzazione dell'acquisto delle mascherine e dei DPI. Sul tema mascherine, la protezione civile si sta attivando. Le mascherine chirurgiche, che sono queste qua, sono delle mascherine idonee. Abbiamo distribuito oltre 400.000 mascherine per gli ospedali nelle regioni interessanti. 22 milioni di mascherine chirurgiche che dovranno arrivare l'individuazione di un fornitore che potrà fornire un numero adeguato fino a circa un milione di pezzi al giorno. Quando si dice che queste qua possono andare bene per essere distribuite da una persona che va negli ospedali, perché noi per quello le abbiamo ricevute e le abbiamo distribuite in maniera analoga a questa e in maniera analoga a questa. Stiamo andando a cercare, come fanno gli altri paesi, mascherine, respiratori. Che sono dei cenci, dei cencetti di tessuto non tessuto, come mascherine. Per cui noi siamo in prima linea ad assistere i pazienti potenzialmente infetti o infetti senza le protezioni. Per cui noi siamo in prima linea ad assistere i pazienti potenzialmente infetti. Per cui noi siamo in prima linea ad assistere i pazienti potenzialmente infetti. Grazie.